La star di Horsin'Around, Bogia Corsman, sa sereno strospite. Che cosa hai fatto da quando hai finito lo show? Una grande domanda, Charlie. Io, ehm... Lo so che al giorno d'oggi è trend di sparare merda su Horsin'Around. Si può dire merda, sì? Meglio di no. No, perché sono un tantino ubriaco. Dai, ho l'impressione che sto spaccando in queste interviste. Sei ubriaco? Todd, peso 600 chili, servono ettolitri di birra per ubriacarmi. Sì. Ti sto chiamando come tuo agente. Non serve essere così. Felina? Stavi per dire felina? Non stavo per dire felina. E che cosa stavi per dire? Stavo per dire gappa. Ti saluto, Bogia Corsman. Tu ti vedi con lui? Ahà. Ma in senso sessuale, non solo come amici. Indovinato? Questo pene è entrato in questa vagina. Sì, ma in senso sessuale. Oh, sì. Oh. Oh mio. Beh, anche se preferisci che non si sappia in giro. Nel profondo hai un grande cuore. Forse perché sei carina, col tempo hai imparato a cavartela. Ma voglio che tu sappia che le tue azioni hanno delle conseguenze sugli altri. Ti odio. Sei una persona spregevole. Sono in serio, mi trova carina. L'ennesima di una lunga serie di scelte discutibili nella mia vita. Come hai detto? Stavo twittando sulle cose strane che fai a letto. Sono molto felice per... Grazie a tutti.